Ciao e ben ritrovati! Allora andiamo a vedere cosa sta arrivando per te. Facciamo due varianti, faccio due varianti, adesso prendo due dipinti, due miei dipinti perché sono quelli più vicini. Ok? Quindi facciamo, allora prima variante questo, questo dipinto e la seconda variante facciamo questo. Allora vi dico anche come li ho chiamati, ok? Allora prima variante, lo faccio vedere meglio ma tanto comunque dovreste vederlo bene, perché comunque la prima variante è questo. Aspetta facciamo, ecco così perché c'è il sole. Allora questo io l'ho chiamato incanto però comunque potete farvi attirare semplicemente dal disegno, ok? Seconda variante, la seconda variante l'ho chiamato, è un po' più scuro questo, l'ho chiamato il sentiero. Qui ci sono tipo degli alberi e poi c'è un sentiero in mezzo, ok? Facciamo così, ecco, forse così lo vedete meglio, no? Ci sono i raggi del sole ragazzi, quindi spero che li abbiate visti abbastanza bene, ok? Quindi prima variante, seconda variante. Andiamo a vedere quindi cosa sta arrivando per te. Direi che possiamo partire con la prima variante. Eccoci qui, prima variante. Allora andiamo a vedere che cosa sta arrivando. Ormai siamo oltre la metà di agosto, vediamo, vediamo che cosa sta arrivando. Cominciamo con l'oracolo risponde. E vediamo subito il primo indizio. Le energie. Ecco, l'è venuto subito fuori. Casa dolce casa. Beh, questo è bellissimo. Casa dolce casa significa che comunque sei in un periodo molto sereno, che sei, ti senti a casa probabilmente ovunque tu sia, ok? E qualsiasi cosa tu faccia. E questa è una cosa molto bella. Quindi è una bellissima energia, ok? Questa è una bellissima energia e quindi sta anche a significare che tutto ciò che arriva, che arriverà, sarà qualcosa per te, fatto apposta per te. Perché ti farà sentire a casa, ok? Quindi questa è una bellissima energia. Adesso prendiamo le sibilline, che è un po' che non le uso. usiamo le sibilline e vediamo un po'. Vediamo un po' qual è il messaggio, cosa sta arrivando per i ragazzi e le ragazze che hanno scelto la prima variante. Allora, abbiamo donna maritata, poi vi spiego, eh? L'amante. Metto gli occhiali perché sennò sono piccoline queste. giovine fanciulla. Sospiri. Ma mi sembra che qui parlino molto chiaro, eh? Ne prendiamo un'altra. E ladro. Allora, ragazzi. Dunque, qui viene molto fuori la parte sentimentale, eh? Devo dire la verità. Il messaggio da queste carte, da queste sibille, è che qui c'è qualcuno che sta un po' soffrendo. Per qualcuno intendo voi, cioè il consultante, voi che state guardando, ok? Quindi questa sensazione di casa dolce casa è un po', devo dire, dopo che abbiamo preso le sibille, è turbata da una situazione sentimentale. Questo è il messaggio specifico, eh? Quindi dopo verranno fuori altre cose, ma al momento questo è il messaggio piuttosto specifico. Qui c'è qualcuno che non si comporta bene nei vostri confronti, per quanto riguarda proprio i sentimenti, ok? Vi fa un po' penare, vi fa un po' sospirare, potrebbe essere anche una persona sposata, ma non è detto. Fatto sta, però, che questa sensazione, qui bisogna ovviamente cambiare in questo caso il messaggio, no? Perché siete in tanti. In questo caso, questa sensazione di casa dolce casa è un po' turbata da questa situazione, ok? Quindi ci sono alcuni di voi che hanno scelto la prima variante, che hanno una situazione sentimentale. Adesso andiamo a vedere come si evolverà, che però non è delle migliori, ok? Vediamo un attimo come si evolve, cosa sta arrivando data questa situazione. Allora, vediamo, la matrice, vedete che parla proprio molto di sentimenti, eh? Conversazione, donna di servizio regalo e il nemico. Allora, sembra che ci sia, diciamo, un miglioramento, ok, della situazione sentimentale. Ci saranno momenti, se non altro, di gioia, di conversazioni, però c'è qualcuno comunque che non è trasparente. O la persona con cui vi relazionate voi proprio a livello sentimentale, o una terza persona. Perché qui c'è una terza persona, ok? Ripeto, è un messaggio molto specifico. A volte le sibille sono molto concrete, no? E molto specifiche. Per cui, quando si usano, a volte viene fuori un messaggio molto, come posso dire, molto di nicchia. Perché in effetti qui è veramente molto specifico. Sono tutte, sono venute fuori praticamente tutte le carte, quasi tutte le carte che riguardano le, un po' le relazioni sentimentali. Quindi qui, onestamente, devo dire che questa sensazione che voi adesso magari provate di casa dolce casa, è un po' turbata da questa situazione sentimentale. E che, ripeto, va un po', diciamo, a migliorare, però rimane il fatto che c'è qualcuno, che io penso più che altro una terza persona, che non è, che rema un po' contro di voi, no? Contro questa relazione, contro questa relazione che voi avete. Detto questo, andiamo adesso a vedere con i tarocchi. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vediamo ancora che cosa sta arrivando. Che cosa sta arrivando? Vediamo se... Questo era un messaggio specifico, quindi magari molti hanno già cambiato la variante, perché se non si trovano in questa situazione, posso capire. Però vediamo ulteriori messaggi con i tarocchi. Allora. Cosa sta arrivando? Allora. Abbiamo la papessa. Il fante di bastoni. Il fante di denari. Li mettiamo più qua. Ok. Il fante di denari. Allora. Diciamo che qui io vedo delle comunicazioni da parte di una donna. Ok. Riceverete delle comunicazioni da parte di una donna saggia, mi viene da dire. Da una donna comunque che vi dà, secondo me, dei consigli riguardo anche a questa situazione che abbiamo visto prima. Ok. E sicuramente sono delle comunicazioni o dei consigli, delle, diciamo, proposte che non vi fanno sul momento molto piacere. Però, in realtà, con questo fante di denari, io le valuterei. Ok. Perché potreste, potrebbero essere delle comunicazioni che vi fanno uscire un po' anche da questo momento, diciamo, sentimentale, un po', un po' complicato. Ok. Se parliamo di situazioni lavorative, io qui vedo che potrebbero esserci delle possibilità. Anche qui però dovete cercare di coglierle perché vi vedo energeticamente un po' abbattuti. Quindi, magari, non vedete queste possibilità, queste eventuali possibilità, come un qualcosa che può essere buono per voi. Ok. Allora, vediamo un attimo. Voglio vedere un attimo che cos'è. Questo fante di bastoni. Allora, è un 5 di bastoni. Allora, è qui, ragazzi, a me dispiace, però purtroppo viene fuori questo. Allora, come dicevo prima, queste comunicazioni che vi arriveranno da una donna che, ripeto, fatemi vedere un attimo questa papessa. Allora, è un messaggio veramente molto specifico. Con le sibille spesso succede, eh. Quindi, questo sarà veramente per pochi, questa variante. Allora. Fa pensere di denari, sì. Allora, sì, qui ribadisco che qui c'è questa situazione, se ci rifacciamo un po' alla situazione di prima, qui c'è una coppia, ok? Qui c'è una coppia e le comunicazioni che ricevete dalla donna, però, da questa donna, sono comunicazioni che non vi faranno molto piacere, ok? Allora, vediamo questo 5 di coppe. 9 di spade, guardate un po'. Qui c'è, purtroppo, diciamo che questa casa dolce casa viene un po' turbata, eh. Mi dispiace, perché a volte capita, a volte capita che ci sono delle stese un po' complicate. Questo è uno di quei casi. Cioè, continua a venire fuori, continua a venire fuori questa complicata situazione, ok? Che vi crea, vi crea ansia, vi crea sconforto, vi crea tensione. Potrebbe essere per alcuni anche una situazione di famiglia, eh. Potrebbe anche essere per alcuni, se vogliamo un po' allargarla. Vediamo questo fante di denari, vediamo un po' che cosa viene fuori. Oh, meno male, meno male. Allora, casa dolce casa finisce con un 4 di bastone, per fortuna. Quindi vuol dire, questo significa che effettivamente tornerete a questa sensazione serena di casa dolce casa. Però, sta arrivando, cioè dovete attraversare una situazione piuttosto complessa dal punto di vista o familiare o di relazione, ok? Però, si risolve tutto, qualunque sia la situazione, si risolve, ok? Quindi, arrivate a una 4 di bastoni che è una grande serenità di casa proprio, ok? Quindi, torniamo a questa energia che, vedete, non a caso poi è venuta fuori. Però, nel mezzo, nel mezzo, c'è un bel po' da lavorare, ok? C'è una situazione molto ingarbugliata. Potrebbe anche essere che questo 4 di bastoni vi arrivi da un'altra persona, eh. Perché qui c'è un fante di denari, da qualcuno che comunque vi porge, ok? Vi porge la mano, vi aiuta e vi fa ritrovare questa grande serenità, ok? Quindi, non è escluso, data la situazione familiare o di relazione che abbiamo visto, ok? Però, comunque, si risolve, cioè arrivate comunque a una serenità. Quindi, cosa sta arrivando? Sta arrivando una grande serenità. Ma, dovete passare in mezzo da una situazione complicata. Questo sì, questo sì. Prima variante. Questa è la lettura. Io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Eccoci, seconda variante. Allora, andiamo a vedere per te che cosa sta arrivando. Partiamo da L'oracolo risponde. E vediamo subito che cosa sta arrivando per te. Per tutti i ragazzi e ragazze che hanno scelto la seconda variante. Co-creare. Allora, qui arrivano delle belle possibilità, appunto, di fare delle cose insieme. Quindi, a livello di amicizia, a livello di lavoro, di progetti. Qui si creerà qualcosa insieme ad altri. Ci saranno delle buone sinergie, ok? Quindi è una bellissima carta, una bellissima energia. E quindi stanno arrivando delle possibilità costruttive, no? Di creare qualcosa insieme a persone molto in sinergia con voi, ok? In sincronia con voi. Andiamo a vedere adesso con le Sibille cosa sta arrivando. Vediamo ancora quale altro messaggio arriva dalle Sibille. Allora, abbiamo Allegrezza Amore Malinconia L'artista Questa la possiamo mettere anche più in qua Ok Il gran signore Allora, a parte un po' di malinconia per qualcosa che magari non c'è più Ma sinceramente Allora, è possibile È possibile Che Qui ci sono più messaggi Allora, sicuramente ci può essere qualcuno di voi Che ha un po' di malinconia per un amore che non c'è più Ok? E che vi dava E che vi dava gioia Che vi dava Felicità Ok? Però Io qui vedo in arrivo altre persone Altre persone con cui Innanzitutto C'è appunto, come ripetevo prima La possibilità di creare cose veramente molto importanti Progetti Qui c'è proprio molta energia di questo tipo Poi potrebbe anche essere però Che Fra queste persone Anzi È molto probabile Che fra queste persone Con cui Inizierete magari qualcosa Che non riguarda La parte sentimentale È probabile che Che nasca qualcosa di più Un sentimento Ok? Quindi le carte in realtà Sono molto belle A parte Volevo vedere Ecco così A parte Questa Un po' questa malinconia Che vedo Ok? Non riesco a capire Aspetta Se io le metto così Boh vabbè Speriamo Perché dopo Quando monti il video Poi viene un po' diverso Allora Vediamo altre Sibille Vediamo ancora un po' Vediamo come si evolve un po' Quello che abbiamo visto fino adesso Superbia Prigione Ladro Allora ragazzi Allora ragazzi Al di là del fatto Che ci siano Delle Degli incontri Molto Positivi Con questo Artista Si chiamano Artista Gran Signore Ma insomma Sono due figure Molto positive Con cui Si può veramente Creare qualcosa Ok? Io qui vedo però Un'altra situazione Che potrebbe essere legata Per alcuni A una situazione Sentimentale Pregressa Che vi tiene però Un po' Ancora afflitti Ok? Vi tiene ancora Afflitti Imprigionati Verso un qualcosa Che non c'è più Ok? Quindi Cercate di Per quello che potete Di Uscire un po' Da Da questa situazione Perché In realtà Davanti a voi Avete queste due figure Molto positive Figure con cui Può Oltre al fatto di Diciamo Creare qualcosa Insieme Quindi a livello Lavorativo Di progetti Insomma Di qualsiasi cosa Può anche Nascere Un sentimento Ok? Io vedo Qui Un po' Di afflizione Ok? Non dico Magari per tutti Però insomma Viene fuori Un po' Questa afflizione Che è legata A una persona Che con voi Non si è comportata Bene Ok? Quindi Concentratevi Cercate di Concentrarvi Un po' Su questa Co-creazione Con queste Possibilità Molto positive Di creare qualcosa Con persone Molto valide Attorno a voi Ok? In modo da Spazzare via Un po' Questa malinconia Questa afflizione Legata sicuramente Ha una situazione Pregressa Mi viene da dire Una persona Che con voi È stata molto Vanitosa Orgogliosa Non poco Trasparente Ok? Vediamo adesso Con i tarocchi Vediamo ancora Che cosa Viene fuori Allora Abbiamo un 2 di coppe Un 3 di coppe Il folle E il 4 di spade Sono stupende Ragazzi Quindi Bando All'afflizione Alla malinconia Perché queste persone Una di queste persone Che conoscerete Per qualcosa Di Che va Che non c'entra Diciamo Con i sentimenti Può veramente Portare A una bellissima Relazione Oppure Oppure Un altro messaggio Potrebbe essere Oltre a questo Che arriva Qualcuno Che vi farà Innamorare Che vi farà Felici Ok? Potrebbe essere Una persona Di queste Cioè Una persona Come ripeto Che Risposto più in qua Che Con cui Iniziate In un altro modo Quindi per creare Qualcosa insieme Ok? Per progettare Qualcosa insieme Oppure Una Ulteriore Persona Che vi farà Veramente Molto felici Qui c'è proprio L'amore Qui c'è proprio L'amore È qualcuno Che proprio Vi Come posso dire Vi Vi farà Venire fuori Quel vostro lato Bambino Quel vostro lato Divertente Ok? Questo vostro lato Anche giocoso Che avevate Perduto Che avevate Assolutamente Perduto Andiamo a vedere Andiamo a vedere Questo 2 di coppe Wow Il sole Beh ragazzi C'è Più bello di così Questo è proprio Amore Ragazzi E amore Allora Qui può riguardare Veramente un po' tutti Perché potrebbe essere Anche che questa afflizione Questa malinconia Riguardi anche Relazioni Chi è in coppia Ma Che Non è più felice Non solo persone Che sono Single Vediamo Il 3 di coppe Abbiamo il 4 di coppe Ancora Armonia Proprio Voglia di stare insieme Qui ci sono Tante coppe Ci sono tante coppe E vediamo Il folle Vediamo questo folle 9 di denari Allora ragazzi Qui c'è veramente qualcuno Sia che siate in coppia Che siate afflitti Che siate in crisi Sia che siate da soli Qui c'è qualcuno C'è l'amore Sta arrivando Veramente l'amore Sta arrivando qualcuno Che vi farà gioire Che vi renderà Talmente felici Vi sentirete Talmente bene Che Proprio Verrà fuori Come dicevo prima La parte vostra Più Genuina Più bambina Più giocosa Questa voglia Di nuovo Di vivere Di divertirsi Di stare bene Addirittura Proprio Proprio Un benessere Anche Qui c'è proprio Anche Un grande benessere Un grande benessere A 360 gradi Poi c'è proprio Anche questo fatto Di cocreare Quindi c'è anche O che coincida Con la persona Per me Per molti Coinciderà Una persona Con cui ci sono Degli altri interessi Ok Che poi sfociano In un bellissimo Amore Secondo me Per molti Sarà così Quindi Seconda variante Bellissima Questa stesa Parte un po' Questa parte Di Un po' Di afflizione Che però Veramente Sarà spazzata via Questo è in arrivo Veramente L'amore Bellissimo Bene Sono contenta Allora Seconda variante Io ti abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Ciao